222 sanzioni per un totale di 18.854 euro. Sono i numeri della lotta all'evasione che si è concretizzata fra ottobre e novembre in controlli a tappeto della Polizia Municipale di Lucca, in hotel e strutture ricettive, ma anche sugli autobus. L'obiettivo è proseguire la guerra dichiarata ai furbetti che non pagano e i risultati si cominciano a far vedere. Le sanzioni sono state accertate grazie al lavoro svolto sul campo dagli agenti della Polizia Municipale, che hanno operato in stretta sinergia con l'Ufficio Tributi del Comune. I controlli incrociati così effettuati hanno permesso di far emergere tutta una serie di situazioni non regolari, soprattutto in relazione al mancato versamento dell'imposta di soggiorno. Negli ultimi due mesi sono stati effettuati 42 controlli a strutture ricettive, sia alberghi che affittacamere. I verbali elevati sono stati 188. La quasi totalità di essi, 183, sono relativi all'imposta di soggiorno. In particolare, in 84 casi, si tratta di mancato o ritardato versamento dell'imposta, mentre 92 sanzioni sono state combinate perché i titolari non avevano dichiarato le presenze nelle proprie strutture. 5 sanzioni hanno riguardato invece la mancanza di titoli autorizzativi in base alla legge regionale 42 del 2000. In tre casi si è trattato di attività svolte senza alcun titolo. Nei restanti due casi, le strutture utilizzavano camere e posti letto al di là della quantità autorizzata. Al controllo sulle strutture ricettive si è affancato quello sull'occupazione di suolo pubblico, con 13 attività controllate e 31 sanzioni elevate, 26 per occupazione non autorizzata e 5 per esposizione di arredi non conforme alla normativa vigente, e quello sugli impianti pubblicitari con tre verbali emessi per attività svolta abusivamente e senza corrispondere l'imposta. Nell'ambito del contrasto all'evasione, un capitolo a parte è rappresentato dall'attività che la Polizia Municipale sta portando avanti di concerto con l'azienda del trasporto pubblico relativa alla verifica dei titoli di viaggio sul TPL. Sulle lame, sulle linee di Lambari, Maggiano e Santa Maria del Giudice, sono stati contestati un totale di 35 verbali per la mancanza del titolo di viaggio.